beh sì in buona sostanza io penso che il mercato sia ancora indeciso e vuoi anche perché abbiamo corso tanto io faccio sempre riferimento all'indice italiano perché noi italiani siamo i migliori al mondo anche se come dice giustamente riccardo non guardiamo oltre il nostro la punta del nostro naso però il fuzzimi tra gli indici migliori al mondo quindi ancora in decisione perché siamo fortemente in ipercomprato vicinissimi a dei massimi importantissimi vorrei tentare un pattern reversal su un acquisto a livello di 27.200 punti circa per poi liberarmi subito verso i 27.4 27.3 quindi una operazione spot velocissima 27.2 27.150 la zona di acquisto stop loss 26.9 take profit take profit attorno ai 27.3 50 a livello di acquisto